crutch bind set benvenuti cari amici del canale dampa tragbi allora mancano poche ore mancano poche ore a cosa la partita che attendiamo da un bel po da un bel po di cui questa settimana abbiamo parlato molto dai all blacks italia inutile che ci giriamo attorno e allora che cosa bisogna fare in questi casi è come prima dell'esame di maturità e come prima di un esame all'università e come prima di un compito in classe di un colloquio di lavoro bisogna pensare ad altro pensare ad altro ma mi direte ma danilo ma mica giochiamo noi ma ti sei rincretinito no certo però aiuta secondo me aiuta aiuta in qualche maniera a rilassare i nostri nervi tanto non è che possiamo pensare a non lo so pensiamo al rugby ma proviamo a distrarci un po proviamo a distrarci un po e allora io vi dovevo un video vi dovevo un video email e ve lo faccio adesso proviamo ad andare con la memoria all'ultima giornata al round 4 al round 4 l'altra volta ho sbagliato ho detto il round 4 era il round 3 questa volta invece veramente è veramente il round 4 andiamo a vedere qual è il 15 della settimana della settimana scorsa così iniziamo ad assaporare poi quello che arriverà negli ultimi due ormai siamo in pieno round 5 si sono già giocate due partite e aspettiamo poi la giornata delle delle verifiche finali delle sentenze anche se già questa settimana ne arriveranno parecchie partiamo con il 15 della settimana del weekend scorso e allora via subito cambiamo il layout e iniziamo a vedere che troviamo al numero uno chi se non Andrew Porter direi che se avete visto le partite la settimana scorsa non potrete essere che d'accordo con me Andrew Porter è del primo dei vari ovviamente irlandesi che troveremo in questo 15 of the week perché l'Irlanda ha vinto la partita del round 4 ha vinto la sfida con i springbox e Andrew Porter si fa 75 minuti contro la bomb squad sudafricana sì perché se li fa proprio contro tutto la bomb squad sudafricana affrontando prima malerbe e poi oxen c'è straordinari non retribuiti direi no per il grande Andrew Porter anzi retribuiti con una vittoria e con la gloria numero 2 aspetta che giriamo qua la slide allora numero 2 eo dan giovane tallonatore dell'inghilterra pensate che fino a poco tempo fa era riserva dei saracens non pensava nemmeno alla nazionale fino a poco fa ricordo in un'intervista riccioni parlava del ruolo delle riserve ai saracens e diceva appunto pensate che perfino teo dan potrebbe entrare nell'orbita della nazionale inglese bene teo dan entrato nell'orbita della nazionale inglese ha trovato una partita di titolare ha fatto da protagonista la finale della premiership ed è assolutamente uno dei numero due più promettenti del mondo e ha fatto un partito nella settimana scorsa teo dan e al numero 3 abbiamo appena parlato di marco riccioni e c'è anche lui allora sono due i saracens in questa prima linea presenti marco riccioni il primo italiano vediamo vedremo che ce n'è anche un altro dopo marco riccioni è tornato oddio non che se ne fosse mai andato ma è tornato in mischia chiusa in nazionale perché mentre aveva fatto benissimo quest'anno in inghilterra anzi era stato nominato il miglior pilone destro del campionato in nazionale aveva sempre avuto qualche problema tra letture così così dell'arbitraggio tra infortuni tra malesseri e invece questa volta marco riccioni è tornato a prendersi il suo posto ed entra nel mio 15 of the week del round 4 bravissimo marco riccioni al numero 4 abbiamo detto che non è l'unico azzurro che ho selezionato questa questa settimana perché al numero 4 si c'è anche lui federico ruzza federico ruzza signor everywhere l'ha chiamato rugby pass nel nella loro di pagella la realtà è che nel primo tempo soprattutto nel primo tempo è stato veramente onnipresente e probabilmente senza la sua appunto onnipresenza onnipresenza sarebbe stato molto molto più duro per l'italia tenere botta nel primo tempo per poi andare a esplodere nel secondo federico ruzza vediamo se questo crescendo lo porta a fare oggi una grande prestazione e perché no la settimana prossima con la francia al numero 5 in coppia in seconda linea con federico ruzza abbiamo messo questa settimana type burn type burn altro irlandese ovviamente l'ho anticipato ce ne sono vari del 15 del trifoglio e type burn presentissimo in mezzo al campo muove la palla porta la palla placca vero e proprio no vero e proprio cardine del gioco irlandese type burn numero 6 rido perché due settimane fa ci chiedevamo se avessimo mai visto un cross kick pass assist meta di un avanti passano due settimane e vi chiedo se abbiamo mai visto un 22 22 di un avanti diciamo che il piede lo usa discretamente bene questo signore qua luke morgan ma ovviamente non è solo piede solita quantità industriale di placaggi break per la meta che apre la partita e autografo finale con una meta per quella che è stata poi la debacle australiana capitano come veramente leader come pochi serve altro serve altro deve fare qualcos'altro sto ragazzo probabilmente uno dei giocatori più in forma della coppa del mondo al numero 7 dall'altro lato chi ci mettiamo ci mettiamo mitch e allora sono tre gli italiani che ho selezionato in questo 15 of the week sono stato un po magnanime non lo so non lo so perché probabilmente sono andato proprio a vedermi anche i concorrenti e credo di avere fatto le scelte quantomeno per me più adatte allora mitch lamaro abbiamo parlato di numeri al di là dei numeri a volte ci sono delle partite che non si leggono coi numeri anche se occhio i numeri di mitch lamaro sono stati ottimi ma al di là dei numeri mitch lamaro ha dato proprio una scossa ehm alla partita prima abbiamo parlato di eh jack morgan capitano come pochi bene anche michele lamaro quel ruolo lo svolge magnifica magnificamente splendidamente bene in maniera splendidamente magnifica mi sono incartato con le parole che si può dire del meno così comunque bravo mitch a questo servono i capitani e lasciamo i puntini di sospensione perché ci sono due partite dove potrebbe dare il meglio eh avanti avanti dai passiamo al prossimo torniamo in irlanda con kylan doris altro giocatore centrale come pochi nel gioco irlandese primo in placaggi anche questa partita altro match di grande sostanza eh in quella battaglia campale che è stata irlanda spring box kylan doris al numero nove al numero nove ragazzi non per compassione ma ho voluto premiare antoine dupont ehm sì lo so la partita era semplice la namibia non era certo uno di quegli avversari eh più più ostici e forse c'erano mediani di mischia che avevano anzi anche senza forse un tasso di difficoltà molto molto più alto nella singola prestazione però ormai più a più di una settimana di distanza probabilmente ci siamo dimenticati del primo tempo di dupont anche perché siamo un po' annebbiati dall'incidente che ha avuto ma le petit rois aveva iniziato a mettere le marce alte signori stava alzando il livello del suo gioco per poi portarlo al top quando servisse ehm e la francia volava il primo tempo di dupont è stato splendido lo ritroveremo lo ritroveremo presto e io scommetto che quando tornerà in campo si parla di un eventuale quarto di finale sempre che la francia ci arrivi ehm comunque che sia prima o sia dopo io sono convinto che quando lo ritroveremo in campo riparterà esattamente da dove aveva finito con o senza maschera protettiva e a proposito di miti del rugby a proposito di icone del rugby a proposito di gente che entra nella discussione sul growth sul greatest greatest of all time al numero 10 mettiamo johnny sexton altro giocatore di cui secondo me questa settimana si è parlato un troppo poco ehm perché perché per me la prestazione dell'irlanda ha girato prima di tutto dalle mani di sexton sexton messo nel mirino dai sudafricani come era assolutamente prevedibile viene botta e ed è lui a organizzare come sempre ci sono dei dieci che sono più ehm dieci di creazione di individualità di uno contro uno e degli altri dieci che sono playmaker ma nel senso proprio che fanno il gioco che organizzano il gioco organizzatori prima di tutto del gioco e questo è johnny sexton ed è stata importantissima la sua regia ecco johnny sexton è un regista ehm indicativo come ad esempio nella meta vada lui a penetrare quando tutti si aspettavano una giocata fuori anche perché era appena stato messo con un placaggio clamoroso eh era lì mezzo zoppicante e quando tutti se lo aspettavano moribondo invece il vecchio johnny che cosa fa va proprio dove tutti meno se lo aspettano si prende il rischio tutti dicono non verrà mica qua in bocca al lupo e lui invece proprio quello che fa va direttamente in bocca al lupo e beh insomma johnny la coppa la vuole la vuole anche a costo di sacrificare tutto corpo compreso al numero 11 al numero 11 ci mettiamo a rundell beh come si fa a non premiare una cinquina ok io in live a un certo momento ho detto questa l'avrei segnata anch'io va detto che non erano difficilissime le meta con quei passaggi che gli sono arrivati dall'amico marco smith e da altri però insomma intanto ne devi fare cinque a rundell non poteva non entrare nel 15 of the week così come non poteva non entrare al numero 12 bundiaki ecco prima abbiamo detto jack morgan probabilmente uno dei giocatori più in forma del mondiale se la gioca con bundiaki anzi guardando i numeri statistiche bundiaki è il giocatore più in forma del mondiale primo in tutte le voci statistiche in tutte le voci statistiche uno contro uno metri percorsi metri guadagnati sulla game line tutte le voci line break tutte le voci statistiche che andate a cercare trovate bundiaki in testa in settimana i neozelandesi hanno un po' discusso su quanto rimpiangono giocatori come lui come gibson park come anscombe però secondo me lui prima di tutti lui prima di tutti e invece quanto se lo godono in irlanda bundiaki al numero 13 al numero 13 a fianco a bundiaki ci mettiamo george north quando wayne pivac si il povero distrattato wayne pivac lo convertì a centro tutti sbuffarono ma ecco le solite cavolate eccetera eccetera il risultato è che george north è diventato un centro solidissimo e il racconto il raccolto lo porta a casa il successore gatland altra grande partita di george north in coppia con tomkins che merita anche lui una menzione al numero 14 andiamo in portugal con raffaele storti raffaele storti che partita che ha fatto con la georgia e poi due mete capolavoro per questo ragazzo portoghese attenzione di soli 22 anni di cui secondo me sentiremo a parlare in futuro magari anche in qualche club importante e al numero 15 per finire il 15 of the week ci mettiamo marco smith marcolino per essere all'esordio ok lo so di nuovo era il cile però per essere all'esordio da titolare in una posizione non sua a 15 ci ha divertito parecchio porta a casa tra l'altro il meno di match di quella partita regala un sacco di assist ma soprattutto regala a borswick un'opzione interessantissima con lui ford e farrell in campo tutti assieme prima si discuteva ma chi giocherà tra questi tre bene possono anche giocare tranquillamente tutti e tre assieme con ford apertura fare il primo centro e marco smith a estremo interessante ragazzi spero che il 15 of the week anche questa settimana vi sia piaciuto ditemi su cosa siete d'accordo su cosa non siete d'accordo ma soprattutto ditemi come state gestendo l'ansia per la partita di questa sera dai non c'è da essere ansiosi questa sera un giro in giostra gratis però speriamo di divertirci insomma e il tifo ci sarà a mille ci vediamo per chi guarda il video oggi alle 8 per il pre partita di italia all blacks sul canale per chi lo guarda invece nei prossimi giorni ci vediamo tutti i giorni con un video ciao un bacio